Siamo arrivati a Murano e adesso inizia il vero viaggio, andiamo a informarci a fare un po' di pezzi. Sono qua con Simone Cenedese, titolare dell'omonima Fornace a Murano, con cui sviluppo tutti i miei progetti legati al vetro soffiato e tutta la parte decorativa. Loro fanno molte bellissime cose, ma lascio descrivere a Simone quello che è la loro produzione. Sì, in effetti noi cerchiamo di fare un po' di tutto, qualsiasi richiesta ci viene fatta dai clienti, siamo principalmente specializzati nell'illuminazione, però non ci tiriamo mai indietro nel fare nuovi progetti tipo i rubinetti, i lavabili, cose che stiamo portando avanti, cose più impensabili, però è un buono stimolo per noi, mi piace, piacciono queste sfide.